Ciao a tutti, sono Momoko88 Prima di iniziare il video volevo salutare un'altra mia iscritta che me l'ha richiesto E quindi... Ciao... Ed... 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 Scusate ma... Sono stanca e non ce la posso fare a mettere insieme due parole Ciao MLP Channel Violi Va bene E... Tornando al video Apriamo la casellina numero 11 Perché oggi ovviamente è l'11 dicembre Quindi... Senza indugi Io continuo a ripetere le stesse cose Abbiamo un'altra Applejack Sì Un'altra Applejack E... Sembrerebbe che il cioccolatino però è diverso da quello dell'altra volta Ma che la foto? Ce la fai? Ah... E... Dovrebbe avere nel... Sullo zoccolo una mela Ma... Boh... Sembra più una mela Che... Sta scoppiando O ha qualche problema O c'è una mela con sopra una stellina Boh... Non si riesce bene a capire E' una cosa un po' strana Comunque almeno Applejack è in una posizione diversa dall'altro cioccolatino Sempre di Applejack E... Quindi... Continuo a ripeterlo però... Purtroppo di Rarity neanche l'ombra ragazzi Ed è un po' strano Cioè... Boh... Chissà perché Adesso tipo tutte le ultime... Ehm... Tutte le ultime cioccolatine e figurine saranno dei Rarity Vabbè Va bene Ragazzuoli Anche per oggi il video termina qui Ci vediamo domani per aprire la casellina numero 12 Non ho altro da dirvi se non... Stay Kawaii Anche per oggi